Sì, sono ancora a lavoro gli artificieri del VI Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito Italiano. Le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato il 20 marzo scorso qui nella città dei Papi sono iniziate intorno alle 10.30 dopo che è stata sgomberata l'area di rispetto, diciamo così, l'area di sicurezza. Con noi c'è il prefetto di Viterbo, il dottor Gennaro Capo. Come sono andate le operazioni di sgombero? Buongiorno a tutti, direi assolutamente in maniera tranquilla, certo qualche ritardo fisiologico c'è stato ma complessivamente il programma che c'eravamo, diciamo, frefissati è stato rispettato. Come diceva lei, l'operazione di bonifica e gli interventi sono ancora in corso, attendiamo le ultime notizie dal punto del ritrovamento in via De Gasperi per poi avviare l'ultima procedura che sarà ovviamente quella del rientro delle persone nelle loro case. L'unico punto di cui ci tengo a sottolineare è l'attenzione che abbiamo avuto per i pazienti e per le persone più fragili. Quella è sicuramente la parte dell'evacuazione che ha richiesto una maggiore attenzione. Noi abbiamo seguito questa mattina le operazioni di sgombero, è andata la mattinata, vediamo il servizio e poi allineano lo studio. Sì, stiamo andando a casa di mia sorella che è in una zona non evacuata e quindi andremo lì. A Viterbo è cominciata presto la giornata per gli abitanti della zona rossa. 36.000 in tutto le persone che hanno dovuto lasciare le loro case per consentire il disinnesco della bomba d'aereo della seconda guerra mondiale rinvenuta in un cantiere edile in via Alcide De Gasperi, a due passi dal centro cittadino. Stiamo lasciando la casa, andiamo a Bagnaia, abbiamo un piccolo locale per salvaguardarci da questa situazione. A disposizione degli sfollati, quattro centri di accoglienza. Da questa mattina, dalle 6, abbiamo aperto la nostra struttura, la nostra parrocchia. Ci abbiamo oltre 100 persone. Ci sarà il pranzo offerto sempre dal comune. Giocheremo a tombola nel pomeriggio, quindi passeremo qualche ora in amicizia. A neutralizzare il residuato bellico, gli artificieri del sesto reggimento genio e pionieri dell'esercito italiano. Si tratta di un ordigno della seconda guerra mondiale, una bomba d'aereo del peso di circa due tonnellate, attivata con tre congine attivazioni, tre spolette e al suo interno ci sono circa 1300 kg di esplosivo. Pattuglie e interforze hanno effettuato controlli anti-ciacallaggio a protezione delle abitazioni lasciate dai residenti.